Martina Esposito Lavoro a Leonardo di Fusaro. Sono sei mesi che sono qui nello stabilimento e sono tecnico del montaggio elettronico. Ho studiato presso Liti Barsanti di Pomigliano d'Arco. Sono perito meccanico, meccanica, meccatronica ed energia. In azienda mi occupo del montaggio di piccole parti che poi andranno a formare il radar. Tramite quindi un montaggio di circuiti, di componenti elettronici oppure anche di parti meccaniche tramite l'utilizzo di viterie oppure colle. La sfida più grande è stata quella di superare l'emozione quando sono entrata a far parte di Leonardo. Un'azienda comunque così grande è per me la prima esperienza lavorativa. Tra le varie lavorazioni a cui ho partecipato posso dare una particolare importanza al montaggio di lavorazioni tramite tecnica SMT che si tratta appunto di saldature di piccoli componenti elettronici oppure anche delle lavorazioni con microonde in cui ci vuole una particolare attenzione per non avere poi delle riparazioni in fase di collaudo. Ho un giovane talento, gli racconterei in primis cosa produce l'azienda che proprio come ha fatto con me mi ha aiutato a valorizzare quelle che sono le mie competenze ampliando comunque il mio bagaglio culturale e inoltre dà ottima possibilità di crescita. Il mio hobby nella vita privata in realtà non è in ambito tecnologico. Io prima di entrare in Leonardo mi occupavo di estetica, ero nella precisione onico-tecnica. Mi richiedeva tanta formazione, tanto studio e soprattutto tanta precisione ed è ciò che adesso forse mi lega al lavoro appunto che svolgo nello stabilimento. Qui come nel mio lavoro precedente ci vuole tanta precisione, quindi due mondi diversi però che se vogliamo si possono anche avvicinare.